Con l'occasione mi piacerebbe tanto, ma questo non c'entra, con l'inchiesta, che si sviluppasse anche un altro filone del giornalismo di inchiesta in Italia, quello che riguarda per esempio un argomento che è considerato tabù, quello delle industrie belliche italiane che producono armi e che vendono armi. Non esiste da nessuna parte un elenco che ci venga a raccontare la lista della spesa in questi ultimi tre anni di guerra in Ucraina, di guerra in Medio Oriente, di quanto abbiano fatturato le industrie italiane su questo settore. E questo io lo dico per una ragione molto semplice. Voi ricorderete qualche mese fa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, disse che noi faremo pagare alle banche gli extraprofitti che hanno guadagnato e poi alla fine non se ne fece niente. A perché non introdurre una tassa su una parte di questi profitti che si sono decuplicati in occasione di una calamità internazionale come l'esplodere di una guerra? O noi dobbiamo accettare il criterio che il mercante di armi, ma chiamiamolo elegantemente il produttore di armi, possa arricchirsi? Io credo che il Ministro Crosetto potrebbe fare una battaglia di verità. Lui da solo occupandosi di questa materia sicuramente non avrà conflitto di interessi, quindi a maggior ragione alzi lui il velo su questo e proponga a questo governo almeno di fissare una tassa, una tantum, un prezzo da pagare visto che ci si arricchisce in tempi di guerra e questo sarebbe un bel filone del giornalismo investigativo che però questo non trova particolari sviluppi.